Kevin, una prestazione solida, non avete concesso praticamente nulla allo Spezia e tu hai contribuito con un'altra grande prestazione lì nel cuore della difesa. Sì, diciamo che oggi era questo l'importante, conoscevamo i valori dello Spezia e l'abbiamo rispettati e secondo me abbiamo interpretato nel modo giusto la partita e abbiamo tirato fuori il massimo. Se ti dico che questo successo, oltre a togliere un po' di pressione perché non si vinceva da tanto, dà anche più valore ai punti contro Atalanta e Inter, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, quando fai una vittoria dopo due pareggi li valorizzi molto e non sono d'accordo sulla pressione perché una vittoria non ci deve levare la voglia di continuare a fare punti. E questo è un bel messaggio, un messaggio importante. Da successi come questo, anche dal peso specifico importante, si ricomincia anche per il giovane di ritorno, per fare meglio rispetto all'andata? Sì, diciamo che noi ci portiamo, oltre che punti, una filosofia, che è quella che ci ha portato negli ultimi tre match a avere risultati. Dobbiamo continuare su questa strada e sono sicuro che ne usciremo vincitori. L'ultima la faccio su di te perché ti stai prendendo sempre di più, non solo i tuoi spazi, ma proprio la squadra, anche in termini di personalità, si avverte dall'esterno. Mi fa piacere, io lavoro tanto, ascolto, imparo da chi c'è da imparare e cerco di dare il mio contributo. Se questo è utile, continuerò a farlo.